commento al vangelo per la terza domenica di avvento siamo giunti alla terza domenica di avvento detta gaudete cioè della gioia chiamati a gioire superando i momenti di crisi e di sofferenza che ci tengono ingabbiati in noi stessi ricordiamoci sempre che anche se le porte degli uomini si chiudono quelle di dio si spalancano per accoglierci e abbracciarci anche oggi ci aiuta la grande figura di giovanni il battista figura emblematica del cammino di avvento la gente va da lui per convertire il proprio cuore per aprirsi alla gioia sentono di dover fare qualcosa essere autentici essere se stessi non possiamo aver paura dei nostri limiti e delle nostre ombre riconosciamoli e affrontiamoli chi sei tu cosa dici di te stesso prima di avvicinarci a dio dobbiamo essere sinceri con noi stessi per essere credenti dobbiamo innanzitutto scoprire chi siamo riconosciamo i nostri limiti e le nostre debolezze e da quelle partire per iniziare un nuovo cammino alla luce del vangelo e alla sua presenza giovanni e voce noi sforziamoci di essere almeno eco di quella voce rispondiamo alla nostra chiamata principale essere noi stessi non possiamo accogliere dio se prima non accogliamo il nostro vero io buona domenica a tutti e buona preparazione al santo natale